Due mesi di lockdown, due mesi chiusi in casa e ricominciare, riprendere la routine, non è sempre facile. Abbiamo vissuto sotto stress, questo è fuori discussione. I nostri comportamenti, che durano per più di una ventina di giorni, diventano adattivi alle situazioni che viviamo. E quindi adesso che ci siamo abituati a questi tempi un po' più lunghi, questi tempi un po' più dilatati, facciamo una grande fatica a ritornare nei ranghi e nelle morse di quei tempi stretti che abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa. Lo stress psicoemotivo che abbiamo vissuto, anche a ridosso del lockdown, dove sembrava tutto praticamente impossibile potersi fermare, poter rimanere chiusi in casa per così tanto tempo, ci ha portato ad una situazione di ansia. Ansia che si ripropone paradossalmente anche al ritorno e al recupero di questa normalità. Meno usciamo, meno abbiamo voglia di uscire e poi c'è anche la questione della paura. La paura che se usciamo possiamo contagiarci, vedere un mondo che non riconosciamo più. Bene, tutte le paure vanno affrontate, abbiamo le risorse per poter affrontare le nostre paure, non vanno prese sotto gamba e vanno affrontate.